Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, buona domenica, come state? Spero tutto bene. Oggi dobbiamo parlare di quella che è la partita del giorno, e cioè Juventus-Cremonese. Ci siamo salutati ieri, mentre vi dicevo che avevo ben poche, ben poco interesse nei confronti di questa partita. Ci ritroviamo oggi, qualche ora dopo, e vi dico che quello che vi ho detto ieri non è più valido, cambia tutto, sono un incoerente bastardo, ma questo è. E quindi oggi sono qui per raccontarvi tre motivi per guardare Juventus-Cremonese, in realtà sono tre più uno, cercherò di spiegarvi anche il perché sono arrivato a dirvi queste cose. Vabbè, il più uno è lo stesso, è il perché gioca la Juventus, è un motivo che rimane immortale, c'è poco da discutere, se sei legato a questi colori, a questa maglia, a questa storia, vuoi comunque seguire le partite, anche se sono un misto tra sofferenza e punizione, non ce la fai. A non guardarle, è come quando su TikTok ti appaiono quei video veramente brutti che tu vuoi schippare, però sei curioso di andare a vedere che cosa succede, perché ormai ti sono entrati nel cervello, una roba del genere. Quindi il fatto che sia la Juventus rimane sempre il motivo principale per guardare la partita. E poi c'è la maglia nuova, di cui non avevamo ancora parlato, perché oggi c'è l'esordio, quindi vai in pensione definitivamente. La maglia che abbiamo utilizzato fino alla partita appunto con il Siviglia dovrebbe essere stata l'ultima partita, poi vedremo se in realtà se in Europa ci sarà qualcosa di diverso e quindi useremo la maglia nuova per la Serie A e invece quella vecchia per l'Europa, perché non ho idea di quali siano tra virgolette gli accordi che sono stati presi tra Juventus, Adidas e appunto le competizioni varie. Però vi dico che la maglia vecchia la utilizzeremo ancora una volta, ci sarà almeno un'altra partita in cui la vedrete, e cioè Inter-Juventus di YouTuber League, che da quanto ho capito Fede mi ha detto dovrebbe uscire giovedì, quindi questa dovrebbe essere la data. Quindi giovedì rischiamo di avere la partita di qualificazione alla finale di YouTuber League Inter-Juve e la partita di qualificazione alla finale di Europa League Siviglia-Juve. Una doppia partita da dentro o fuori per arrivare a giocare una finale, una finale di YouTuber League e una finale di Europa League, che sono sicuramente due importanze differenti, però comunque potrebbe essere una giornata completamente dedicata alla Juventus. La maglia nuova, due parole al volo, ieri ho pubblicato anche uno shorts, non so se l'avete visto, nei primi concept, quindi negli spoiler, ero molto preoccupato, perché la maglia non mi piaceva per niente, le prime volte che l'ho vista anche la foto della maglia ufficiale buttata lì, non mi diceva assolutamente niente, c'era troppo giallo, ero preoccupato, anche queste strisce un po' particolari mi facevano molta, molta paura. Devo dirvi la verità, invece indossata dai calciatori e dalle calciatrici, soprattutto dalle calciatrici ovviamente, però ha tutto un altro stile e non mi dispiace per niente, devo dirvi la verità. Pensavo potesse essere qualcosa di audace, invece la vedo già molto molto bella, sarà, non lo so, l'effetto novità, l'effetto cambiamento, non ne ho idea, però in questo momento la vedo molto più bella rispetto a quella con cui abbiamo giocato fino adesso, in questa stagione, non lo so, è sempre così, no? Quando poi esce la maglia nuova riesce sempre a stregarti in qualche motivo, il grosso dubbio era appunto vederla addosso ai calciatori, ma soprattutto vederla in campo oggi, quindi oggi cercheremo di capire se è davvero così bella, secondo me sì, ha maggior ragione se viene utilizzata insieme ai pantaloncini neri, e le calze possono essere anche bianche, bianche e nero non mi interessa, però il pantaloncino deve essere nero, perché secondo me se metti un pantaloncino bianco, una maglia del genere, rischia di rovinare un po' tutto l'insieme, però vedremo, oggi in campo con la cremonese c'è questo esordio, questo debutto della maglia, vediamo che cosa succederà. Il secondo motivo per vedere Juventus cremonese è appunto una sorta di palestra per i calciatori, per quelli che poi dovranno cercare di arrivare pronti, carichi a giocarsi la semifinale di ritorno di Europa League con il Sevilla, anche se in realtà questo potrebbe andare in controtendenza rispetto a quella che è la probabile formazione che sta girando al momento, che sta circolando, ve la provo a raccontare così al volo, senza mettervi giù una grafica, dovrebbero giocare, Perini in porta, confermato anche da Allegri ieri, Gatti, Rugani, Alexandro nel terzetto difensivo, dovrebbero giocare questi tre nei tre di difesa, Barbieri a destra, Fagioli, Miretti e Paredes a centrocampo, Ealing a sinistra, Milik e Moiseken in attacco. Una formazione sicuramente rimaneggiata, tanto, tanto turnover, alcuni giocatori che abbiamo visto di più, alcuni che abbiamo visto di meno, Barbieri e Ealing sugli esterni, significa avere finalmente un po' di freschezza, un po' di gamba nuova, in quella posizione in cui abbiamo visto praticamente tutta la stagione, quadrado, Kostic, Kostic, quadrado, quadrado, Kostic, Kostic, quadrado, poverino, non bisogna anche loro di riposare, e dietro riposa Danilo, a centrocampo riposa Rabiot, quindi tutti i giocatori che hanno comunque giocato tante partite. Una squadra fresca, comunque, perché l'età media è molto bassa, sarebbe molto bassa nel caso, perché Ken è un classe 2000, Ealing e Barbieri, lo sappiamo, Fagioli in 2001, Miretti è un 2003, quindi iniziano ad essere abbastanza, una squadra svecchiata, ma la cosa che fa impressione, se davvero sarà questa formazione titolare, quindi, dicevamo, palestra per quelli che devono giocare, di questi, se proprio e proprio dovranno giocare poi giovedì, mi immagino Omnilic, però se gioca oggi non credo che possa poi giocare giovedì, Gatti, potrebbe essere, potrebbe essere Rugani, potrebbe essere Fagioli o Miretti, uno dei due, però non tanta roba, perché sembra quasi un riposo con la Cremonese, e poi i titolari ce li teniamo per Siviglia, perché pensate alla panchina, se quelli sugli 11 titolari, la panchina oggi dovrebbe essere una roba del tipo, Scesni, Bremer, Danilo, Locatelli, Pogba, Quadrado, Kostic, Chiesa di Maria Vlaovic, vediamo sull'E, perché in teoria dovrebbe partire per l'Under 20, dopo la partita con la Cremonese, però ho visto che qualcuno lo dà già fuori, già nella partita di oggi, quindi, ieri non mi pare che Legri abbia parlato di questa cosa qui, qualche settimana fa invece aveva parlato appunto di Sule, che sarebbe poi partito dopo Juventus-Cremonese, quindi vediamo che cosa succede, però è ovvio che se parliamo di una Juventus che deve prepararsi per la Siviglia, non è tanto una palestra, una preparazione in vista del Siviglia, quanto più un relax, un riposo in vista del Siviglia, con la volontà però di vincere oggi, e adesso arriviamo al perché, ho cambiato idea rispetto a ieri, perché ieri Ragazzi si è giocato Lazio-Recce 2-2, si è giocato Salerentale Atalanta 1-0, si è giocato Spezia Milan 2-0, tra l'altro la contestazione è molto molto importante, da parte degli ultrarossoneri, nei confronti della squadra allenata Rapioli, e se diamo un'occhiata, alle prime posizioni in classifica, oggi la Juventus ha la possibilità, di allungare definitivamente un po' su tutte, ieri l'Inter poi ha vinto per 4-2, quindi è andata praticamente, nelle nostre zone di classifica, è dato che sappiamo che il 22, quindi tra 8 giorni, ci sarà qualcosa di importante extra campo, e sappiamo anche che il ricorso ha fatto sì, che 15 punti fossero ritenuti eccessivi, sarebbe veramente interessante, alla luce dei risultati di ieri, con tutte le squadre che lottano, orbitano in quella posizione lì, che hanno perso dei punti, hanno perso delle posizioni, una Juventus che vada a fare un unplane, in Serie A in campionato, quindi vada a prendersi tutti i punti disponibili, per poi capire quanti effettivamente ne serviranno, perché dopo dovrebbero iniziare a contare, col pallottoliere, col labaco, qualcosa del genere, per cercare di incastrare la Juventus, cercando di dare una penalizzazione, inferiore a 15, ma comunque che vada aritmeticamente, a tenere la Juve fuori dalla Champions, quindi sarebbe molto molto interessante, vincere oggi, sarebbe molto molto carino, vincere oggi, portarsi a casa questi tre punti, non solo per il morale, in vista di Siviglia, che quello è fondamentale, ma anche proprio dal lato extracampo, perché mi piacerebbe capire poi come andrebbero a muoversi, quindi devo dirvi la verità, una Juventus che inizia a portarsi a casa, davvero dei punti, veri e propri, anche perché poi il 22, è tra 7 e 8 giorni, e si gioca già un'altra partita, lo stesso giorno, quindi poi si gioca la partita col Milan il 28, iniziano ad essere tutte l'incastrate, sarebbe veramente molto bello portarsi a casa questi tre punti, per vedere come cambia, perché poi sai, inizi tra i 9 e i 15, non c'è tanta differenza, non c'è tanta distanza, quindi cerchiamo di portarli a casa intanto questi tre, lotta alla salvezza, dato che la Cremonese è quasi condannata, guardando un po' la classifica, notiamo questa cosa qui, la Cremonese che al pari della Samp, che è già retrocessa, sembra l'altra squadra destinata, anche perché poi ci sono 3-4 squadre, Lecce, Verona, Spezia, che stanno giocando per l'ultimo posto, e con la vittoria di Redello Spezia, e con il pareggio del Lecce, ora il Verona dovrà stare al passo, quindi sull'ultimo posto della lotta a salvezza, secondo me si apre un bel campionato, un minicampionato, la Cremonese, vedendo la posizione di classifica, non credo che possa salvarsi, però se vuole salvarsi, una delle ultime possibilità che ha, è appunto fare punti allo stadium, e non penso che sia così facile per la Cremonese, anche se noi abbiamo dimostrato, in questa stagione, di poter veramente regalare punti e puntacci, a chiunque, casa trasferta, veramente qualcosa di terrificante, voglio raccontarvi anche un po' quello che è la Cremonese, perché per i gol subiti, la Cremonese ne ha subiti 29 nel primo tempo, e 30 nel secondo tempo, che significa che comunque primo, secondo tempo difendono bene o male, uguale, vanno a subire lo stesso numero di gol, per quanto riguarda l'attacco, nel primo tempo, la Cremonese ha fatto 10 gol, in campionato, mentre nel secondo tempo, ne ha fatti ben 21, più del doppio dei gol della Cremonese, arrivano nel secondo tempo, quindi attenzione, attenzione ad abbassare poi, la guardia, pensare che la partita sia finita, magari vai su 1-0, cerchi di difendere 1-0, perché poi è un attimo che ti freghino, quindi se rimettiamo insieme i motivi, vabbè, è la Juve, c'è la maglia nuova, la palestra per il Siviglia, se qualcuno dovrà giocare, quello che è accaduto ieri, all'interno della Serie A, e quindi tutto quello che poi potrebbe derivare anche, la ragione extracampo, aggiungo una quinta, che secondo me è molto importante, non mi tocca in prima persona in questo momento, perché non andrò allo stadio, però quelli che vanno allo stadio, pagano il biglietto, dedicano la domenica alla Juventus, e hanno diritto a vedere in cambio una squadra che comunque prova ad agguantare la vittoria, prova a portarsi a casa i tre punti, nonostante tutto, perché chi va allo stadio è giustissimo che si vede una serata di un certo tipo, e se ieri vi dicevo, sì, mi frega veramente poco, mi frega relativamente di quello che sono le ultime gare di Serie A, oggi invece vi dico, pensandoci bene, anche solo per curiosità, per ragioni extracampo, ho ritrovato un po' di motivazioni, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, e noi ci vediamo stasera per il post partita, live reaction, pagelle, tutto quanto.